Benvenuti, benvenuti cari amici di Samuubi di questo nuovo video Avalanche è letteralmente on fire più 23% nel giro delle ultime 24 ore in seguito all'accordo raggiunto con Amazon ma non solo entro in questo video, andremo a parlare anche di Solana perché ci sono importantissime news soprattutto per quello che potrebbe essere il prezzo nei prossimi giorni e infine andremo a chiudere anche con Bitcoin e Ethereum vi ricordo inoltre che oggi ci sarà il CPI alle ore 14 ma prima ti ricordo che il 19 gennaio alle ore 21 otterò una live esclusiva per cui trovi sotto il link in descrizione per registrarti a CryptoCowboys lo hai fatto? ti sei registrato? è per cui iniziamo subito andiamo subito a vedere i top gainers e top losers di giornata Avalanche più 22,8% FTT più 17,3% al contrario troviamo FLR col meno 8,8% ma ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Avalanche perché Avalanche letteralmente on fire in seguito a questa notizia è ufficiale Amazon ha scelto Avalanche per portare maggiori soluzioni di scalabilità all'impresa e ai governi quindi complimenti ok ad Avalanche perché questo sarà un grosso boost secondo me per Avax in quello che sarà il futuro ok delle Alcoin per quello che sarà la prossima Buran ovviamente notizia arrivata durante il bear market come possiamo vedere pezzo nominali di 15,36 dollari più 23% sul giornaliero e addirittura volumi che sono andati a aumentare del quasi il 400% nelle ultime 24 ore pensate siamo arrivati addirittura un miliardo vi ricordo che Avalanche capitalizza quasi 5 miliardi però dal mio punto di vista sarà un breve flash quello che ancora sarà un lungo bear market perché se noi andiamo a vedere anche su Defilama quelli che sono i principali dati possiamo vedere come il total value locked che ammontava pensate a 11 miliardi a fine 2021 ad oggi ammonta solo a 843 milioni quindi siamo ben lontani dai dati ok che avevamo su Avalanche andiamo a vedere sui settimanali sui settimanali che cosa vediamo vediamo rottura ok in concomitanza delle 6 dei 40 ai 57 però secondo me non c'è forza ok guardate qua abbiamo questa importante resistenza sui 16,68 che dal mio punto di vista non andrà a rompersi ok e lo vediamo chiaramente perché guardate qui che Sky Rockets abbiamo fatto qui siamo sul daily addirittura 79 di RSI e guardate qui 79 proprio è in concomitanza di un dato che abbiamo avuto identico il 25 novembre 2021 quindi quello che mi aspetto da Avax è nuovamente un dump andiamo a vedere più in particolare ok dove potrebbe arrivare questo dump io mi sono segnato comunque la zona di supporto dei 11 e 42 quindi vedremo se effettivamente scaricando su 4 ore magari in concomitanza delle 6 sui 30 o anche lì sotto Avalanche potrebbe riraggiungere questi livelli comunque ottima notizia però naturalmente dare questa notizia durante un bear market secondo me è penalizzante ok c'è nel breve comporta un Sky Rockets però a lea lunga non sortirà alcun effetto questo è un problema di Avax però comunque complimenti ad Avalanche ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Solana perché Solana sta mantenendo i 16 dollari in questo momento capitalizzazione di mercato di 6 miliardi volumi per 716 milioni e anche qui vorrei riportarvi un tweet in particolare un articolo nel quale si burnischi va a paragonare Polygon e Solana e vi faccio subito un riassunto cioè lui va a dire naturalmente che Solana è di gran lunga migliore soprattutto per quanto riguarda la scalabilità ok e in particolare per quale elemento perché non so se lo sapete ma proprio il 12 scusate l'11 gennaio cioè ieri è stata lanciata Solana Fire Dancer per chi non lo sapesse si tratta ok di un validatore che dovrebbe addirittura portare le transazioni in Solana ad un milione al secondo quindi vedremo effettivamente se sarà così sappiamo che i problemi che ha avuto Solana essendo collegato anche allo scandalo FTX ed Alameda però io sono fortemente fiduciato su Sol per quanto riguarda il lungo periodo ovviamente non so se avete partecipato alla Brick Point di Lisbona ma viene riportato ok quello che si parlava in particolare di Fire Dancer per cui l'obiettivo principale di Solana è portare maggiore scalabilità e diventare il principale ok diciamo blockchain per andare a risolvere il trilemma andiamo a vedere anche quello che in questo momento il prezzo di 16.7 dollari sul settimanale ovviamente siamo ancora ben lontani da quelli che sono i massimi andiamo a vedere sul giornaliero perché sul giornaliero che cosa vediamo? vediamo che abbiamo fatto anche qui R6.71 quindi siamo andati leggermente oltre i 70 abbiamo questa resistenza sui 17 dollari che dal mio punto di vista non sarà passata a breve più in particolare se andiamo a vedere su 4 ore a me piace tantissimo questo supporto dei 15 dollari voglio vedere se lo andiamo a ritestare più in particolare qui guardate qua abbiamo fatto i 15.42 ci siamo andati molto vicini però secondo me dobbiamo almeno testare questo supporto se non il secondo che troviamo a 13.73 quindi secondo me in questo momento io sto andando leggermente short su Soliano ovviamente lo sono i costi finanziari e i costi trading e vorrei proprio mali chiudere in questa zona qua mali 15.51 poi andiamo a vedere i dati del consumer price index perché vi ricordo alle 14.30 arriveranno i famigerati dati che dal mio punto di vista ok porteranno un dump nel breve e vi dico anche quella che è mia ovviamente non sono né così finanziari né così trading però andiamo a vedere quelli che sono stati i livelli di dicembre più in particolare a partire a luglio dove era addirittura al 9.1% le aspettative eran dell'8.8 siamo arrivati a dicembre con un 7.1 aspettative al 7.3 e c'era stato quel leggero scale da parte di bitcoin ora secondo me comunque abbiamo bastato tanto potremmo rivedere un inverso cioè aspettative inferiore rispetto alle attuali quindi secondo me andremo ad alzare ok oltre al 7% poi se andiamo a considerare anche il fatto che bitcoin o che in questi giorni è andato a fare un pescherò che se guarda qui sul giornaliero e guardando puramente gli indicatori abbiamo fatto addirittura 75 dire sai con concomitanza e resistenza di 18.3 secondo me la mia ipotesi ancora va più ad avalorarsi questa in sostanza è il mio ragionamento voglio riportarvi anche questa notizia anche su FTX non ci metterei la mano sul fuoco però ci riporta Cointelegraph che FTX avrebbe recuperato oltre 5 miliardi di dollari in contanti che tutte valute liquide ovviamente se fosse vero dovremmo vedere un scale rocket pazzesco per ora oggi ha fatto solo un 17.3% tra virgolette quindi vedremo se FTX si riprenderà secondo me oramai la sua carribilità comunque è andata a farsi benedire ma soprattutto vorrei andare a vedere anche Bitcoin su 4 ore perché è proprio quella ipotesi che vi stavo dicendo di un eventuale scarico secondo me è più che presente in questo momento che guardate qui anche 4 ore siamo carichissimi 87 delle 6 quindi attenzione l'area che sto monitorando sono nuovamente i 17.000 dollari poi c'è anche Cavicchioli che riporta secondo me un dato molto importante cioè comunque sia se l'effettivo bottom fosse dei 15.5 sarebbe addirittura di 5 volte superiore rispetto al bottom che abbiamo registrato durante il 2020 quindi secondo me è fortemente interessante questa affermazione ci dice comunque Bitcoin è sempre in crescita poi per quanto riguarda Burnisky lui ci ha dato questi due livelli 1.341 per Ethereum e 17.5 per Bitcoin come resistenza io vi dico la verità secondo me la resistenza in questo momento per quanto riguarda Bitcoin è proprio l'abbiamo appena fatta cioè 18.4 ok quindi secondo me non andremo oltre e vorrei in sostanza andare a chiudere ok anche infine con Ethereum però negli ultimi 6 mesi Ethereum ha fatto un più di 10% mentre Bitcoin ha perso un 20% quindi questo ci deve far fortemente riflettere e andiamo a vedere Ethereum perché è buono sui settimanali ma guardate qui quante volte sui settimanali si è andati a prendere i 47 quindi anche secondo me Ether si andrà a fermare sui 1.4 ok questo primo elemento sui settimanali andiamo a vedere giornaliero giornaliero guardate qui 76 quindi anche qui mi aspetto nuovamente un dump da parte Ether io sto sempre monitorando area 1000 per quanto riguarda il lungo periodo e soprattutto 4 ore in questo momento non riusciamo ok passare il livello di 85 su RSI quindi anche qui mi aspetto prima raggiungimento di 1.347 ed eventualmente anche di zona nuovamente 1.250 ora vorrei riportare anche questo tweet perché mi trova non d'accordo ok di più ci dice che comunque se andiamo a vedere Bitcoin e i suoi vari RSI guardate qui abbiamo fatto luglio scusate settembre con un RSI sui oltre i 70 e quello che ci aspetta è che in questo momento siamo molto vicini a quest'area quindi probabilmente 18.5 sono il nuovo massimo relativo dal quale secondo me andremo giù questo è quello che ci dice anche Andrew Grieg vorrei infine andare a chiudere con Kinami me l'avete chiesto e io vi vado a rispondere in questo momento prezzo di praticamente 2 millesimi volumi insensibile aumento soprattutto in vendita 126.000 dollari 253% in più che cosa sta avvenendo? abbiamo visto delle vendite ok a catena soprattutto in genti anche 7.000 9.000 dollari così via ovviamente io sono andato subito ad informarmi vi ricordo che questo è un progetto rischiosissimo e soprattutto che la liquidità è solamente di 175.000 dollari in questo momento quindi quello che mi attendo ci saranno tantissima volatilità ok soprattutto se avremo un dump da parte di BTC e Ethereum che mi aspetto e stiamo a vedere non escluderei ok magari anche nuovamente il raggiungimento anche di questa zona qui visto che abbiamo breccato quello che era un importante supporto di 2.000 e mari nuovamente raggiungere un millesimo per poi prendere e ripartire visto che la coin è soggetta a forte volatilità non in caso andatevi anche a vedere i video precedenti ok per quanto riguarda Kinami così vi fate una maggiore idea approfondite e studiate e se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like di iscrivervi al canale e naturalmente di iscriverti e registrarti anche a Crypto Cowboys trovi sotto il link in descrizione a presto